amici sportivi amici fantallenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio grazie agli amici di fantaraba andiamo ad analizzare quelli che sono i consigliati per la giornata numero 36 di fantacalcio campionato che avvolge al termine tre qualificate alle tre finali europee quindi l'inter in champions league la roma in europa league la fiorentina in conference league poteva essere poker anche con la juventus ma è stata eliminata dal sevilla e quindi record storico per le italiane e noi ci troviamo però in campionato ricordatevi la formazione si gioca subito stasera quindi utilizziamo subito fantaraba per darvi massimo dei consigli per la prossima giornata di fantacalcio 10 giocatori consigliati in porta di gregorio in difesa gen city schurse biraghi a centrocampo orsolini strafrezza vlasi ceciuria e in attacco dia con arnautovic perché consigliamo questi giocatori in porta di gregorio ultime cinque partite con media voto 6.4 fanta media voto 5.8 un indice di schiarabilità pari a 7.7 qui sotto vedete tutte le motivazioni per le quali si va a consigliare di gregorio vi ricordo che tutti gli indici di schiarabilità li trovate su fanta la punto it cliccando anche il link qui sotto utilizzando appunto per accedere all'area del veterano quindi fatelo un grande passaggio per tutti voi in difesa come detto gen city media voto le ultime cinque giornate 6.2 fanta media voto 6.4 ottime media voto e fanta media voto nelle ultime cinque partite come punti di focus e di attenzione quello un po' meno importante solo i discreti media voto e fanta media voto per il suo ruolo ma qua c'è tutto il modo per andare a puntare in atalanta contro verona per gen city 7.8 per lui di schiarabilità ultimo giocatore andiamo ad approfondire ciurria il match sarà sassuolo contro monza 8.1 per lui di schiarabilità media voto ultime cinque cinque la fanta media voto e pari a 7.0 non ci sono negatività apparente sull'importante giocatore centrocampista del monza che tanto bene ha fatto quest'anno e tanto bene è stato consigliato al veterano in fase di apertura voi utilizzate sempre la piattaforma di fanta la piattaforma che sta letteralmente trasformando il mondo del fantacalcio ci siamo presenti sarà un'estate bollente quindi restiamo ampiamente connessi a presto al veterano ciao ragazzi